Ciao fiorellini, ciao fiorelline, sto davanti alla fotocamera perché oggi è un giorno molto speciale come avete visto il titolo però prima da parlare, raccontare, dare auguri speciali a questa bella ragazzitta di due anni io gli direi di ascrivervi al mio canale qua sotto, cliccare la campanellina e via la siga commentare se volete dare la cura alla mia nipatina via la siga ecco sono ritornata dopo la sigla oggi per me è un bel ricordo beh, ricordo di due anni fa, mi ricordo quando mia figlia mi ha detto che era incinta e dopo mi do lavar i capelli perché mi piantano crespi, non lo so insomma io ero molto felice, poi quanto è nata, non ne parliamo quanto è nata, quanto ero felice perché mi sono super emozionata, sono stata tutta la notte con mia figlia, mi ha aiutato di dare mia figlia e ho guardato tutta la notte mia nipote, non ho avuto sonno per niente perché poi quando sto all'ospedale non dormo perché quando è successo pure di guerrino che dovevo fare l'esistenza tante volte e io non dormo di notte sto là all'ospedale per fare l'esistenza e niente, mi ricordo quando è nata, mamma mia, carinissima l'emozione immensa, non me l'aspettavo che avendo una nipote ci sarebbe stata questa emozione ho questo desiderio da vederla giocare con lei non lo so tante cose bellissime pensi sempre a lei non ho una sola di nipotina, purtroppo speriamo che pure l'altra figlia mi farà un nipotino però per ora ho solo lei e sono due anni che abbiamo questa nipotina noi diventiamo matti, cosa lo diciamo ad affare mamma mia io non pensavo a essere nonna che era un'emozione così grande e ieri stavo con mia figlia perché doveva andare dal dottore e allora stavo lì con mia nipotina questa la devo raccontare perché mi ho fatto dottorina mi sono scordata a dirlo a Elisabetta te lo dico in video, mi sape? mi sono scordata e dovevo farla scendere che stava dietro con il seggiolore legata con la cinta lei non ha una macchina come me come sportelli di dietro ma ha solo sportelli davanti devi tirare sul sedile allora io non è che sono abituata a sta cosa perché io ho pure dietro i sportelli e la stavo tirando fuori allora ho fatto eh nonna non è abituata ma non è abituata ma non è abituata ma non è abituata ma non è abituata passa una che ho visto chi era dove sono solo la voce e poi ho visto che andava via e ha fatto sì nonna ma che nonna ha fatto sì sono la nonna diceva che era una madre e ha detto sì ma che nonna sarai una madre no nonna ha detto no no solo una nonna so ma vabbè comunque ah io sono contenta che non mi prendono la nonna mi ritengono più giovane sono super felice però io sono una nonna e sono super felice avere una nipatina così li rendiamo tutti pazzi ragheri mia figlia che era più grande tutti noi poi pure ho perso pure la parte di là uguale perché abbiamo un nipote sia noi sia loro e oggi è il suo compleanno sono passati due anni mamma mia è troppo 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 carina troppo io ti voglio un bene da morire quella nipotina ho solo questa nipotina ma se ci avrò altri nipotini i quali vi vorrò bene da morire a tutti i nipotini perché è una cosa bella perché è come se fossero due figlie due volte perché è figlia di tua figlia e perciò non è normale questa cosa mi so quanto mia figlia ha partorito come si stava a partorire mamma mia non so come spiegarvelo come e poi sono una persona che non posso vedere il mio marito i miei figli che soffrono e sapendo che lei stava partorendo mi sembrava che soffriva peoria poi quando ho visto mia figlia mi sono emozionata perché io le amo troppo i miei figli tutte e tre le amo troppo e non vorrei che soffrissero mai nella vita e le aiuterei in tutti i sensi per farle soffrire e penso che tutte le madri così boh a me mi dicevano che ero fissata eh quando loro c'erano piccole mi dicevano che sei troppo fissata però erano i miei figli una cosa l'affeggazione dei figli no perché io le amo i miei figli perciò una sta passando e per me sono tutto i miei figli io non capisco i giudori che non tengono così tanto perché pure quando andavo a scuola andavano a scuola loro le vedevano certe madri non tenevano tanto come tenevo io in file non capisco come mai come fanno delle madri così e mo una nipote eh che ve la dire a fa' mamma mia troppo carina è bionda ce l'ho mi ha ma è già sono passati due anni e sono venuta qua a dare tanti 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 auguri alla mia nipotina Nicole che fa due anni e non vedo l'ora da vederti e dare i nostri recali. Oggi è il tuo compleanno, già l'anno scorso mi ricordo che aveva un anno, purtroppo dopo il suo compleanno è chiuso per tre mesi e non lo poteva vedere per tre mesi. Speriamo che non succede per quest'anno, perché basta. La vedevo solo tramite videochiamata, però quando l'ho rivista dopo tre mesi, allo scorso, la vedevo tanto più grande. Tre mesi con fotocamera, con videochiamata, si, si, la vedevo, però ammette proprio che la vedi nella realtà, si vede diversamente. Comunque, ora faccio la canzoncina, speriamo che non piove. Piove, della nonna, tanti auguri! Non vedo l'ora da vederti. Ciao! Ti amo! Ti amo! Nicola, ti amo! Ciao! Adesso è finito per questo video e se volete date auguri alla mia nipotina Nicole che fa due anni oggi che è il 26 febbraio. Comunque tanti auguri, tanta felicità e spero che nella tua vita avrai tanta felicità e tanta fortuna. Ciao! A quando ci vediamo, ciao amore! Quando ci vediamo oggi devo portare il regalino. Spero che ti piacerà, pure la zia Raquel ti porterà il regalino e poi la zia quell'altra. E ciao a dopo! Ciao!